YouTube, io 58, 5.50 e 85, andiamoci a vedere l'estrazione insieme. Primo colpo di gioco, ore 10. Un attimo su, la pubblicità qua. È vincita del metodo dell'ennagono regolare. Ennagono regolare. Eccolo qua, amici miei. Il primo colpo, ore 10, 5.50 e 58, 5.50 e 85, 5.50 e 58 e 85. Ho l'oro ovviamente, che è quello che differenzia le mie vincite da tutti e da chiunque. Ecco il 50, che col numero d'ore si vincono i soldi. Due terzini, una quartina e poi la velocità. E' la velocità che l'ha fatta Paglione. Questo è il primo colpo, vediamo che succede. Ore 10, amici miei. Se esci, abbiamo fatto i soldi per giocare all'otto gratuitamente. Arrivo subito. Boom, popolo, 50 euro. Ma che è una coincidenza? Ma avete fatto i soldi per giocare all'otto. Ciao. Ciao.